Gli auspici sono che intanto possa essere, per quanto mi riguarda, l'inizio di una bellissima avventura, nuova avventura qui a Reggio Calabria. Io sono stato per diversi anni consulente di questo festival negli anni passati, quindi conosco bene questa realtà. Lo sono stato per 5-6 anni, quindi ho avuto modo di integrarmi e di inserirmi in questo territorio che è molto importante, ovviamente la città è bella, ma merita anche da un punto di vista cinematografico un evento al suo livello. Quindi mi sono sentito onorato quando l'organizzazione del festival, in modo particolare Michele Geria, Andrea Quattrina, Andrea Vistilli, mi hanno chiesto di assumermi questo onore, che per me però è un grande onore, quindi lo dico con grande orgoglio, della direzione artistica di questo festival. Con l'obiettivo di rilanciarlo, siamo alla 18esima edizione, quindi esiste da tempo e quindi ha una sua tradizione, una sua importanza già radicata sul territorio, ma di rilanciarlo e di farlo diventare un punto di riferimento nazionale e forse anche internazionale da un punto di vista cinematografico, ed è per questo diciamo che stiamo lavorando con una prospettiva di alcuni anni, perché niente si riesce a fare subito, però ci sono le premesse e quindi questa è la cosa importante. Abbiamo l'anticipazione di qualche nuova? Adesso in conferenza stampa lo diremo. Siamo in attesa di una notizia che sta arrivando in questi minuti per quanto riguarda un grosso personaggio che dovrebbe aprire il festival, quindi questa sarà l'anticipazione che però daremo a breve, dopodiché noi chiuderemo il festival con un personaggio che per noi è molto importante, che è Nino Frassica, che insieme a Antonio Catani, a Mauro Gragliani, che è il regista e a Milena Miconi presenteranno il film di chiusura della manifestazione che è 30 anni di meno. Nel corso della manifestazione la guispina dorsale, come sapete, è rappresentata dal concorso dei cortometraggi, a cui noi teniamo moltissimo, 12 cortometraggi che verranno presentati e che sono il frutto di una selezione nutrita, quindi abbiamo scelto il meglio di un gruppo molto numeroso, dove tra l'altro anche qui ci sono dei personaggi importanti, perché noi abbiamo per esempio Giorgio Tirabbassi, che tra l'altro sarà presente al festival, Susi Laude con Dino a Brescia, quindi ci sono anche altri personaggi che saranno presenti al festival, dall'attrice Elisabetta Fellini a regista Mollo, che ovviamente voi conoscete bene qui sul territorio. Un altro elemento è il legame con il territorio, quindi qui verranno presentati alcuni lavori, sia come cortometraggi che come lungometraggi legati al territorio, ovvero sia di autori calabresi e finanziati anche dalla Regione Calabria, dalla Phil Commission, eccetera, perché questo è molto importante perché un festival dal mio punto di vista deve essere molto legato alla realtà dove si svolge, quindi a questo territorio. Poi il festival è molto articolato, quindi oltre alla competizione, come dicevo prima, la spina dorsale del festival, ovvero sia di cortometraggi, ci saranno degli eventi speciali, quindi proiezioni di lungometraggi la sera e poi tutta un'attività di masterclass, workshop, presentazione di libri che sarà durante il giorno. Arriveremo fino al carcere, quindi ci sarà una proiezione in carcere che è un po' una tradizione di questa manifestazione e poi apriremo domani con questa bellissima mostra fotografica curata da Rino Barillari, che torna qui, che è di origine calabrese, penso che voi lo conosciate, che appunto sarà dedicata a Marcello Mastroianni, sapete che c'è il centenario della nascita, quindi ci sono una serie di iniziative in tutta Italia, questa è particolare, dopo la mostra fotografica che è stata presentata alla Venezia, la mostra del Cina di Venezia, ci sarà questa presentata da noi con tutte foto originali di Rino Barillari e questa l'apriremo domani. Poi abbiamo tra l'altro un altro elemento importante, una giuria composta di personaggi importanti perché il presidente di giuria è l'attore in italiano-inglese Vincent Riotta, come sapete un attore che ha lavorato con grandissimi registi da Christopher Nolan, Ron Howard, Ridley Scott, eccetera, che sarà presidente di questa giuria composta poi dall'attrice Marina Suma, che è un altro personaggio importante che noi avremo durante il festival, tra l'altro in questi giorni sta riuscendo il famoso film Sapore di Mare, che dopo l'occasione di Rosa l'ha lanciata nel panorama cinematografico nazionale e quindi gli dedicheremo uno spazio adeguato e poi avremo lo stesso Barillari in giuria e poi un critico, un giornalista, quindi anche la giuria sarà un elemento importante di questo festival. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!